Una stagione ricca di risultati ottimi e di soddisfazioni. Assolutamente sì, è una stagione che si è appena conclusa per le categorie più piccole, gli esordenti B e gli esordenti A, con i rispettivi campionati regionali in cui i nostri ragazzi hanno partecipato e si sono distinti ed è una stagione che deve ancora terminare per il gruppo dei più grandi, la categoria ragazzi dalla seconda a terza media in su, abbiamo ancora un mese e mezzo di lavoro davanti. Quante sono le categorie? Le categorie federali, quindi per quanto riguarda la federazione italiana nuoto, sono tre grandi gruppi, gli esordenti B, sono i primi anni di elementari, gli esordenti A, di due anni più grandi e poi la categoria ragazzi in su, lì ci sono altre quattro categorie ma per comodità sono accorpate e gareggiano insieme. Allenamenti serrati e gare tutto l'anno? Assolutamente sì, diciamo che la stagione dei più piccoli è una stagione unica che si dipana da ottobre fino a giugno, diciamo che più o meno segue il periodo scolastico, mentre per i più grandi viene divisa in due grandi parti, la prima termina intorno a fine marzo inizio aprile con i campionati italiani e da lì poi si riprende per la stagione estiva che appunto termina fine agosto, scusatemi, fine luglio, fine agosto. Da che età si può iniziare? Noi abbiamo la pre-agonistica che appunto sono diciamo un ingresso nell'agonistica, prendiamo bimbi di 7-8 anni che arrivano dai corsi nuoto della polisportiva rivarolese con cui collaboriamo, in cui affittiamo gli spazi acqua e diciamo che quello è il primo ingresso nel mondo dell'agonismo, ripeto è un pre-agonismo ma hanno comunque loro grazie a un ente di promozione sociale che è il CSI, la possibilità di gareggiare, di confrontarsi e di crescere per poi approdare nel mondo del nuoto giovanile vero, diciamo. Prossime gare in programma? Abbiamo i campionati regionali la prossima settimana, campionati regionali di categoria sempre per quanto riguarda i ragazzi dalla seconda a terza media in su e poi ad inizio agosto i campionati italiani per gli atleti che si qualificheranno. Grazie a tutti.